Il giorno 12 settembre a Capriccioli si è svolta la polizia dei fondali e del retro spiaggia. Manifestazione voluta dall'amministrazione comunale di Arzachena e supportata operativamente da parte dei volontari di Sea Shepherd all'interno dell'operazione Mare Nostrum. 8 subacqui di Sea Shepherd con appoggio due imbarcazioni e un gommone dell'associazione comandante Raimondo Bucher. Lo stato dei fondali è in buone condizioni, sono state prelevate una quantità minima di rifiuti mentre così non è stato per la spiaggia e il retro. I diver di Sea Shepherd hanno anche individuato un relito probabilmente naufragato nel periodo invernale e si sono preoccupati immediatamente di rimuovere le batterie che causano grave inquinamento. Si ringrazia il comune di Arzachena, l'associazione comandante Bucher, Sea Shepherd, capitaneria di Porto, Lega Ambiente e l'hotel Capriccioli.